In principio c'era il Signore dei Ganelli, fiabesco, avventuroso ed epico, dopo è arrivato Game of Thrones, maturo, politico, realistico. Poi ancora c'è stato The Witcher, cupo, crudo, sanguinolento. Ma esistono altri modi per raccontare il fantasy in live action? Uno c'è, e ce lo mostra in grande spolvero, Dangers and Dragons, l'onore dei ladri. Premessa, chi si appresta a farvi questa recensione non è un fan della prima ora di Dangers and Dragons, non è un esperto, non è una persona che ha studiato manuali e quant'altro ancora, ci ho dato una letta ogni tanto, però mi sono cimentato comunque in una one shot e in una campagna relativamente breve. Mi sono divertito tantissimo grazie a un party con dei compagni di viaggio straordinariamente divertenti e un dungeon master molto bravo e coinvolgente, quindi sarebbe un'esperienza che oggi, avendo più tempo libero dalla mia, con le persone giuste, sicuramente ripeterei. Ma allo stesso tempo non è che sia proprio a digiuno di Dangers and Dragons. Oltre ad aver giocato un po' di volte, ho avuto l'opportunità di leggere qualche romanzo, un paio di fumetti, di aver visto il film del 2000, Dangers and Dragons che è il gioco al binizio con l'inspiegabile partecipazione di Jeremy Irons che vorrei volentieri dimenticare, quindi conosco il franchise, conosco la saga anche perché è stata citata in tantissimi prodotti pop, da community Stranger Things e sono un grande fan dei GDR, genere ripreso in tempi recenti proprio da Critical Role in ambito internazionale su YouTube ma anche dai nostri italianissimi ragazzi di Intel con Luxastra, quindi sono molto legato al franchise da un punto di vista di spettatore più che di fruitore e comunque anche se avevo un'infarinatura generale e non ero così attento, tecnico e preparato, devo comunque dire che le persone che erano a vedere il film con me, che sono fan duri e puri e che ci giocano tuttora, sono invece rimasti entusiasti, sono spesso saltati dalla poltrona quando c'era un determinato easter egg, quando una location veniva rappresentata proprio come negli artwork ufficiali, quando si droppava un nome di un incantesimo, di una razza o di un paese e questa cosa sinceramente mi ha fatto felice perché mi è capitato di essere fan di altri franchise e avere questo tipo di emozione, questo tipo di partecipazione e vedere i fan duri e puri di D&D di fatto sobbalzare con gli occhi a cuore e un sorriso che va da un orecchio all'altro è sicuramente una cosa più che positiva, quindi al di là di questa premessa vorrevo comunque dirvi che proprio forse perché siete a digiuno di Dungeons & Dragons la mia recensione può avere un peso maggiore rispetto a tante altre che invece parlano ai fan duri e puri. Il film è stato scritto e diretto da John Francis Daly e Jonathan M. Goldstein e se adesso vi steste chiedendo chi cazzo siano avete tutti i motivi per farlo perché in Italia non si tratta di nomi molto conosciuti però posso assicurarvi che in America sin dalla fine degli anni 90 ad oggi si tratta di una coppia ben rodata che nei più disparati ruoli da registi, sceneggiatori, passando a semplici soggettisti di base rimaste implicate in una valanga di franchise cinematografici e televisivi che se non avete mai visto sicuramente avete sentito nominare, mi vengono in mente Spider-Man Uncoming, come ammazzare il capo, piovono polpette, come ti lovino le vacanze e anche Bones, il procedural con protagonista David Boreanaz e l'indimenticabile Angel di Buffy. Quindi stiamo parlando di persone che sanno come far ridere e emozionare il pubblico e allo stesso tempo perfettamente consapevoli del rispetto che richiede il materiale di partenza originale affinché il target e il pubblico di riferimento una volta entrata in sala oppure facendo zapping sulla propria tv se si tratta di uno show televisivo riesca immediatamente a immedesimarsi e sentirsi parte di quel mondo. E se nel gioco originale i player venivano chiamati ad attribuire una classe specifica ai personaggi che avevano inventato, nel film i registi fanno la stessa cosa con il folcloristico roster di star che compare a schermo. Per quanto mi riguarda il gran mattatore della pellicola è il bardo di Chris Pine, attore che abbiamo visto in tempi recenti impiegato nel franchise di Star Trek e nello sfortunatissimo Wonder Woman e che per quanto mi riguarda qua ritrovo in forma smagliante come non accadeva da anni. O è perché il personaggio gli sia stato praticamente cucito addosso? È divertente, dissacrante, è fascinoso, ha charme, carisma, ha una gravità sdrammatica, ha una componente emotiva che non ti aspetti. Insomma è una di quelle performance che non solo diverte il pubblico ma secondo me diverte anche l'attore stesso. Io gli auguro che questo possa sancire la sua rinascita artistica e professionale per vederlo impiegato in film che non siano solo blockbuster, cacciaroni o commedie sentimentali perché secondo me è molto sottovalutato come attore Pine. Abbiamo poi Michelle Rodriguez che interpreta Michelle Rodriguez. La star di Avatar e della saga di Fast and Furious si era lamentata in un junket dicendo che spesso e volentieri litigasse coi registi perché a causa della sua resting beach face naturale le attribuivano sempre ruoli molto forti, indipendenti, fisici, incazzosi e lei voleva invece perfezionarsi come attrice facendo qualcosa di differente. Ecco la sua Barbara in questo film, Olga se non ricordo male, è un personaggio molto Rodriguez ma allo stesso tempo ha inaspettatamente dei momenti di tenerezza e di dolcezza che fanno uscire un pochino l'attrice fuori dalla sua comfort zone. Quindi chissà se a un certo punto riusciremo ad abbandonare l'analusia di Lost e fare qualcosa di differente, io gliel'auguro. Tra i più giovani invece abbiamo Justice Smith, l'abbiamo visto qualche anno fa in Pokémon Detective Pikachu, film che è stato da poco rinnovato con un sequel, non sappiamo se lui sarà nel cast ma io gliel'auguro, che interpreta uno stregone delle capacità magiche molto latenti, per non fare spoiler. Sofia Lilis, la splendida Sofia Lilis, vista nella duologia remake di It di Andy Muschietti che qua interpreta il druido, lei è il personaggio che mi è piaciuto di meno. Non è che non mi sia piaciuto, anzi, lo ribadisco, mi sono piaciuti tutti i personaggi, era tanto che non mi succedeva tanto in un film indie quanto in un blockbuster di apprezzare tutti i personaggi a schermo ma secondo me il suo è quello che si assume meno rischi, quello più monodimensionale. Però è anche quello protagonista del maggior impiego di effetti visivi e anche, per quanto mi riguarda, nella mia ignoranza, della miglior scena da un punto di vista registico di tutto il film, ma ne parleremo tra un po'. Abbiamo poi dalla serie Cult di Shonda Rhimes, Bridgerton, da poco rinnovata per una terza stagione, mi sembra anche uno spin-off, io l'ho droppata a mettere la prima perché It's Not My Shit, targata Netflix, René Jean Page che qui interpreta il paladino, un personaggio che dà il meglio di sé nelle coreografie action e nei momenti drammatici, ma è anche involontariamente comico e non potrà che farvi affezionare a lui. Abbiamo poi i cattivi, c'è Hugh Grant che interpreta, e qui chiedo nei commenti aiuto agli esperti di Dungeons & Dragons. Nell'adattamento italiano si dice che sia un truffatore, secondo me però volevano dire ladro slash, come potrei dire, rogue? si dice così in originale? Chiedoveni, ho visto giusto un paio di trailer ai tempi quando ancora non c'era un trailer italiano, quindi non ricordo nettamente. Quindi non so se esista veramente una classe che si chiama truffatore, oppure se abbiano scelto questo perché già nel punchline del titolo c'è l'onore dei ladri, quindi probabilmente per distinguerlo dagli altri ladri hanno pensato a questa cosa qui. Comunque il suo è un arrivo ad empatizzare anche se riconosce essere uno stronzo. Lui in campagna marketing ha detto che ha partecipato a questo film e che questo, quando ha letto il copione, gli sembrava il ruolo più divertente di tutta la sua carriera, secondo me è un iperbole, ma guardando la sua filmografia negli ultimi anni capisco perché effettivamente abbia potuto dire una cosa del genere. Ultima ma assolutamente non meno importante che io ho apprezzato in questo film e non credo di aver mai visto altrove. So che ha un percorso attoriale ben definito, ma così su due piedi, dato che è calva come avete visto nel trailer, io non sono riuscita a metterla a fuoco in altri film o serie tv, è Daisy Head che interpreta la maga rossa ed è praticamente un personaggio che farà, diciamo, passare un brutto quarto d'ora al nostro cast, al nostro party. Anzi, più che un brutto quarto d'ora, due ore e un quarto perché è un film molto, molto lungo, ma che a causa dell'incredibile scorrevolezza e dell'idea di viaggio che trascina i personaggi nelle più disparate location agli angoli del globo per lo spettatore non pesano minimamente. Sulla trama invece non vorrei dirvi nulla perché è una trama talmente semplice ma talmente semplice che secondo me anche solo accennandovi il canovaccio rischio di rovinarvi qualcosa. Però non è che sia un problema. Ne abbiamo già discusso ai tempi di Avatar la via dell'acqua. Una trama semplice non è per forza di cosa un difetto perché semplice significa accessibile e accessibile significa arrivare a un pubblico più vasto. Ora, per quanto riguarda Dungeons and Dragons l'onore dei ladri. Secondo me bambini, ragazzi, young adult, famiglie, persone un attimino piagé possono entrare in sala e godersi tutto. Ovviamente se avete letto qualche manuale, qualche romanzo, fumetto, se siete all'interno della lore di Dungeons and Dragons, davanti a quel riferimento, a quel castello, a quella creatura, per forza di cose un sorriso vi si strapperà. Avrete gli occhi a forma di cuore, sarete contenti, sobbalzerete sulla poltrona, ma anche se siete dei nabbi come il sottoscritto, vi divertite. Vi divertite perché, come ha detto giustamente Victor Laslo, 88, amico e collega che saluto, questo film è l'equivalente per noi cresciuti negli anni 90 della mummia con Ben Dan Fraser. Si tratta letteralmente di un prodotto divertente, cacciarone, esilarante, con una cifra stilistica e un'identità unica che ti trascina immediatamente all'interno di un mondo, che è in costante evoluzione, in costante cambiamento. Io ho perso il conto di quante location abbiamo visitato, in quanti posti siamo andati, siamo stati in spiagge, giungle, foreste, città, castelli, cimiteri, ghiacciai, grotte, caverna, abbiamo visto di tutto e di più, un sacco di creature, mostri, animali antropomorfi, sacerdoti, non morti, chi più ne ha più ne metta, e ne volevo ancora, perché questa è la potenza del film. Il fatto che Dungeons & Dragons, nella sua semplicità, riesca immediatamente a chiarire tutto a tutti e che ogni singolo personaggio diventi immediatamente chiaro nel suo viaggio, nel suo scopo, nella sua evoluzione, nella sua ambizione, nei suoi sogni, nella sua caratterizzazione, nel momento stesso in cui compare. Il party si arricchisce di volta in volta, proprio come siete abituati, magari nei shonen manga, o anche in opere letterarie dove il gioco di ruolo la fa da padrone. Insomma, ci sono davvero tanti elementi che, a prescindere dal vostro background pop, non potranno che conquistarvi. E mi ha sorpreso anche la CGI. Molti hanno detto che questa CGI, ho letto la critica internazionale, che la CGI non fosse questo granché. Ogni tanto vira il cartunesco, è vero. Ci sono delle inquadrature, in particolar modo, e delle rese sceniche delle creature che non risultino particolarmente credibili. Su quello ne convengo. Però, all'interno dell'accezione di D&D, funziona, all'interno del tipo di opera proposta, della storia che stiamo esplorando, non guasta. E in una scena in particolar modo, l'ho detto prima, quella che riguarda il druido, assistiamo a un piano sequenza davvero bello, lungo e quasi interamente sorretto dalla CGI. Quindi, anche una regia che non ha particolari guizzi, anche un montaggio che poteva effettivamente tralasciare determinate sequenze che più potrebbero arrivare lungaggini, effettivamente hanno fatto la scelta giusta nel confezionare il film così come confezionato. Perché è scorrevole, è divertente, ha tanto cuore e soprattutto non è pretenzioso, non mira a essere un film che vuole toccare delle vette che non può permettersi. So che molti hanno detto che il trailer sembrasse troppo comico, quasi trash. Io vorrei dirvi, ho iniziato questo video con un paragone tra fantasy. Ho iniziato La Signora degli Anelli, ma avrei potuto dirvi, che ne so, Labyrinth? La storia infinita? Page Master? Ci sono un sacco di prodotti fantasy che hanno caratterizzato il grande e il piccolo schermo. Però mi andava di concentrarmi sul fatto che la più grande differenza tra Dungeons & Dragons, L'Onore dei Ladri e tutti gli altri prodotti fantasy è che oltre a raccontare il fantasy, raccontino una campagna. Io ho un'esperienza misera, piccola, infinitesimale rispetto a quella dei più appassionati, ma non sapete in quante volte mi sono divertito, una situazione drammatica e virata al comico. La casualità del lancio dei dadi ha portato a presentarsi degli scenari che non avremmo mai potuto vedere e non avremmo mai trovato in una storia più drammatica e seria, ma che effettivamente ci hanno permesso di salvarci per il rotto della cuffia. Ecco, Dungeons & Dragons è l'esatta rappresentazione di una campagna fantasy. Se avete visto in Tale, se avete visto Critical Role, se in tempi recenti avete visto, qui però parliamo di un prodotto animato, su Prime Video, Vox Machina, capite perfettamente quello che vi sto dicendo. Dungeons & Dragons rappresenta il cuore di una campagna giocata a D&D. Io mi immagino questi attori riuniti al tavolo lanciare i dadi e vivere questa avventura. Ed è questa la potenza intrinseca di Dungeons & Dragons, oltre al fatto che non è un titolo clickbait, perché ci sono tanto i Dragons quanto i Dungeons. Quindi da quel punto di vista è un film che presta assolutamente fede a se stesso. Detto ciò ragazzi, io non voglio dirvi niente di più, non voglio spoilerarvi niente, non voglio anticiparvi null'altro, lascio la parola nei commenti agli esperti, però voglio consigliarvi questo. Se siete orfani di fantasy, se volete vedere un film cacciarone, divertente, leggero ma coerente con se stesso, perché puoi fare una trama semplice ma può essere anche piena di incongruenze narrative e di buchi di trama, ciao Marvel Studios, io vi consiglio caldamente di guardare Dungeons & Dragons. Se invece siete dei fan accaniti, avete già giocato, magari siete addirittura dei Dungeon Master, avete 10.000 motivi in più per recarvi in sala, perché questo film è fatto da persone che amano D&D per altre persone che amano D&D. E spero tanto che questo primo approccio da parte di Paramount possa tradursi in un franchise o addirittura, che so, sviluppare uno spin-off televisivo pensato per lo streaming su Paramount+, perché in questo mondo si possono creare infinite storie con infiniti personaggi. E credo che questo film, nonostante non parta favorito dalle prevendite al box office, merite comunque due ore del vostro tempo. E voi? L'avete visto? Che cosa ne pensate? Vi invito a dirmi la vostra opinione nei commenti. Ciao!